Musica Musica Utrade assegna dei riconoscimenti, degli awards, alle aziende che si sono distinte nel settore. Come sapete sono divisi in due gruppi, un primo gruppo è determinato dalle classifiche, dall'elaborazione dei dati di bilancio che ha messo a punto il centro studio di Utrade, invece un'altra parte è più qualitativa e viene indicata da altre imprese che indicano i distributori meritevoli. Questa seconda parte però causa, ahimè, l'ospite indesiderato sempre, cioè Covid, è al momento ancora in fase di elaborazione perché è proprio per la difficoltà di contattare le persone che sono, ahimè, a volte non disponibili. Così come nell'assegnazione adesso dei riconoscimenti non tutti sono in presenza, alcuni sono in remoto, alcuni sono in raggiungibile. Insomma è un anno un po' così, però detto ciò nulla cambia perché le classifiche ci sono. Io vorrei iniziare subito con la categoria Best Revenues, io spero che vengano i premiati e i premiandi. A ritirare il premio c'è Paolo Oltramonti per Zanutta Spa e a consegnare il premio c'è invece Fabrizio Zaccaron, responsabile commerciale di Eclise. Prego, la consegna del premio credo che debba avvenire qui. Se volete venire, stiamo aspettando. Eccoci qua, consegna del premio dovete rivolgervi alla telecamera, consegna del premio, fotografie, non so se volete aggiungere qualcosa. Beh, miglior fatturato che non è come dire un risultato così diciamo scontato, però viene una conferma rispetto all'anno scorso perché mi sembra che fosse primi anche l'anno scorso. Qual è la strategia vostra per mantenere questa posizione? La strategia per mantenere la posizione è stata sicuramente continuare a investire sui nostri clienti, i nostri fornitori, su tutta la filiera e tutti gli stakeholders perché il valore più grande è coprire tutta la filiera e avere il cliente sempre in testa e al centro in prima posizione. Voglietevi alla telecamera. Senta, invece Eclise che consegna il premio, loro vendono i vostri fissi? Sì, loro sono degli ottimi clienti in crescita non solo di volume, di fatturato ma anche di differenziazione ai prodotti. Stavo dicendo prima che una nostra collega in battuta la settimana scorsa diceva che vorrebbe farsi assumere da Zanutta perché ogni giorno praticamente è informazione, c'è una forte richiesta di conoscenza da parte della Zanutta e chiaramente noi cerchiamo di soddisfarli nel reciproco interesse. Bene, poi nel pomeriggio magari approfondiamo le tecnicalità, gli aspetti invece strategici. La consegna della targa, le fotografie di rito. Ci siamo? Ok. Passiamo al secondo, direi che siamo a posto. Il secondo, come dire, classificato è Bau Expert, però non è presente causa, come dicevo prima, forza maggiore. Al terzo posto, sempre per la categoria Best Revenue, cioè migliore fatturato, c'è invece Eternedite e chiamo qua Federico Nessi, direttore commerciale di Eternedite e consegna il premio invece Paolo D'Agostino, Building Director di Aldiaxi Spa. No, eccoci qua. No, a Nessi faccio la stessa domanda di prima, qual è, come dire, stata la strategia per mantenere la vostra posizione così in alto in un momento non facilissimo? Anche se il 2019 in effetti non è stato male. No, funziona? Mi sentite? Ok. No, onestamente è stato un anno positivo per tutto il settore, quindi nel momento in cui il fattore macroeconomico gioca a favore bisogna semplicemente cercare di seguirlo. Per quanto riguarda la nostra strategia, banalmente è stata di crescere per linee interne ed esterne, quindi fondamentalmente abbiamo un piano strategico che prevede apertura di punti vendita ex novo, come magari è successo qui a Milano e cerchiamo di cogliere opportunità che possono emergere per punti vendita che, insomma, ben sappiamo il nostro settore è formato da una serie di aziende e generano un mercato iperfragmentato, quindi il mercato risponde e noi cerchiamo di cogliere l'opportunità che il mercato ci offre. Ma anche, come dire, chiede anche dispositivi, materiali per il drenaggio? No, perché visto che... Diciamo che con Redi e insomma il gruppo Aliaxis c'è un rapporto pluridecennale, insomma, non saprei... No, no, confermo, sì, sì. Tra l'altro sono stati, nella figura di Paolo, sono stati i nostri partner alla cena di Natale che abbiamo fatto, che ha coinciso anche con i festeggiamenti per i nostri 70 anni di storia, che abbiamo festeggiato appunto a Natale lo scorso anno con una bellissima festa a cui ha aderito, insomma, Redi. Siamo partner nel vero senso della parola, nel senso stretto. Lei d'aglustito conferma che c'è un mercato ricettivo? Sì, sì, sì. Abbiamo avuto, purtroppo, quello stop and go ad aprile, però stiamo recuperando. Stiamo recuperando, siamo molto fiduciosi. Una volta che poi le aziende si sono state subito messe in sicurezza, si può lavorare tranquillamente e vogliamo lavorare, noi vogliamo lavorare e continuare così. Non sarà certo queste disposizioni che ci possono fermare. L'importante è che i cantieri rimangano aperti, perché c'è tanto da recuperare e, come ho sentito anche prima, c'è tanto da riqualificare e da reinventarci. Quindi io sono positivo. L'importante è che ci facciano lavorare. Chiediamo solo quello. Non sarà la mascherina o tutte le altre attenzioni che ormai fa parte della nostra vita. Ci vuole più di prima, forse la responsabilità oggi è un dovere più che un'opzione. È responsabilità delle persone. Bene, consegna della targa, di ordinanza, fotografie, applausi digitali, come sempre. Ok, ci siamo? Bene. Passiamo invece alla categoria Best Revenue Performance. In questo caso è GMG Centroedile e chiamo qui Giorgio Ferrari, titolare di GMG Centroedile. Eccolo qua. E consegnare il premio invece è Salvatore Palazzo, responsabile vendite di talcementi. Buongiorno a tutti. Non mi resta che, come dire, complimentarvi perché Best Revenue Performance vuol dire che avete fatto boom. In che modo? Avete una tecnica particolare? No, abbiamo investito, quindi il risultato del 2019 si riferisce però agli investimenti del due anni precedenti e di conseguenza nello showroom nuovo, inserire nuove merceologie, diversificare e inserire i servizi. Poi abbiamo acquisito una pallegnameria nel comune di Usmate, dove produciamo e vendiamo tetti in legno e case in legno e ci siamo dedicati anche al settore dei serramenti, anche lì acquisendo una capannone dove con macchinari produciamo i serramenti con profilo Metra, che è un profilo similare all'asciuco. Quindi abbiamo creduto nel momento in cui magari altri con la crisi ci prendevano magari per sproveduti e oggi il mercato ci dà ragione. Bene, Palazzo prima si parlava col professore di marketing dell'importanza, so che voi avete anche ricambiato proprio l'aspetto di un materiale base, cioè i sacchi di cemento, che loro vendono, giusto? Assolutamente sì, io mi permetto di introdurmi, mi chiamo Salvatore Palazzo, piacere a tutti. Ecco, in questa cornice web devo dire che qui abbiamo proprio l'esempio di un testimonial di un cliente vero, come diceva proprio il professor Noci, ecco qui abbiamo un operatore che differenzia e quindi risolve un po' i problemi alla clientela, investendo in prima persona e differenziando quello che è proprio non solo il prodotto ma il servizio che dà. Quindi innanzitutto ti consegno questa targa e mi sento molto grato di farlo. Grazie. Ti ringrazio per il buon lavoro fatto sia noi come azienda ma anche di prospettiva. ecco, tornando proprio alla domanda che faceva il direttore, è proprio vero, noi siamo in tal cemento, ovviamente un'azienda leader nel settore dei materiali e della costruzione, il cemento è considerato, è una commodity, non possiamo nasconderci dietro questa cosa, ci sono prodotti finali che rispondono meglio alle esigenze finali del cliente perché il nostro prodotto è un po' come la farina, lo impasti, lo mescoli con altri costituenti per arrivare poi a un prodotto finale. Ecco, il nostro prodotto nelle rivendite, devo dire la verità, non era molto visibile. Noi ascoltiamo i nostri clienti, poniamo i clienti al centro, facciamo le indagini di customer satisfaction e devo dire che anche visitando personalmente le rivendite ci accorgiamo che un po' il prodotto, un po' la materia prima, viene un po' trascurata da un punto di vista di immagine. Oggi le richieste e le esigenze dei clienti valgono per tutti i prodotti, guardate. Anche il cemento fa parte di questa categoria, abbiamo ridisegnato completamente il nostro packaging per renderlo molto visibile e soprattutto mettendo in risalto quelle che sono le caratteristiche tecniche dei prodotti. La famiglia dei cementi si divide in tre grandi famiglie, i 32, i 42, 5 e i 52, 5. Abbiamo quindi un po' ridisegnato il layout risaltando appunto questo numero, che è il numero che identifica la famiglia, un po' come il giocatore di calcio che viene riconosciuto dallo speaker, dal numero sulle spalle. Ecco, i nostri prodotti che troverà in rivendita avranno questo gran numero, 3, 4 e 5, che quindi dividiranno le famiglie, i colori saranno risaltati e vedrete che è il primo passo verso una serie di nuove iniziative che verranno lanciate, che ovviamente non vi anticipo oggi, ma le vedremo sul mercato. Quindi grazie direttore per la domanda e soprattutto grazie al Giorgio per i risultati che abbiamo conseguito insieme. Un sacco bello. E per ringraziarvi perché noi con l'Italcementi facciamo un ottimo lavoro e abbiamo trovato il sistema di vendere il cemento anche attraverso il metodo di posa, nel senso che una volta si vendeva i sacchi, noi lo trasportiamo in sistemi automizzati in cantiere dove poi viene direttamente posato, quindi è un sistema diverso, ma questo ci ha fatto aumentare il quantitativo di cemento venduto oggi. Ecco, questo poi è anche un esempio reale, come diceva il professor Noci, che era stato mio docente all'università, è quella positività che un grande brand deve generare nella mente del cliente. Ecco, qui abbiamo un esempio reale di positività, ma anche noi con l'iniziativa del nuovo sacco vogliamo trasmettere una positività nel cliente finale che poi si tramuta appunto in riconoscimento commerciale. Quindi grazie. Ottimo, grazie mille. Grazie a tutti voi. Passiamo alla successiva, prego, un intervento straordinario. Intervento straordinario perché ero qui e sono due cose che sono interessanti che sono state appena dette e rispetto alle quali mi piace portare l'attenzione ai nostri amici che ci seguono online. Il primo tema è legato al fatto che Italcementi, come dire, ha ad esempio utilizzato, e io l'ho visto in Cina, si parlava di Cina, io ho aperto ieri sui social, abbiamo aperto un campus a Xi'an, la città dei soldati di Terracotta, come Politecnico di Milano, e una delle cose che i cinesi hanno assolutamente voluto, io ho cercato di promuovere il Made in Italy, è il cemento che assorbe l'anidride carbonica e che voi avete nel fotocatalitico. Cito questa esperienza perché attraverso un prodotto che ha connotati di differenziazione, che va verso l'eco-compatibilità, si genera un effetto di trascinamento molto significativo anche per il resto dei prodotti più commoditi. Il secondo tema, che se ho capito bene, ero lì nel backstage, è importante. Il mio allievo ha imparato bene, nel senso che lavorare, vi posso portare, mi pare di aver colto che parlava di un meccanismo di qualificazione del packaging, immagino volto a semplificare quello che è il processo di scelta. E il mio allievo ha imparato bene perché vi do un'esperienza basata su Tesco, Tesco è uno dei più grandi distributori del mondo, grande distribuzione organizzata, Regno Unito. Nel Regno Unito c'era un tema, ritorno al fattore di incertezza dei processi d'acquisto, perché sull'incertezza voi dovrete lavorare molto. Il vino, il Regno Unito, con i Britanni ci sono dei grandi consumatori di birra e sono dei modesti consumatori di vino. Tesco si è posto il tema, come poter incentivare il consumo di vino. e si sono accorti che uno degli elementi chiave che inibiva la scelta del vino è la complessità culturale indotta dalla scelta di un prodotto sofisticato come il vino, a cui gli inglesi non erano abituati. Cosa hanno fatto? I talcementi 1, 2, 3, loro hanno lavorato sulle etichette con colorazione. Ad ogni colore corrispondeva un determinata tipologia di vino. Quindi lavorare per cercare di far fronte alla incertezza nel processo d'acquisto, semplificando la scelta, e tutto questo si è tradotto in Tesco, in un successo. Quindi, caro ingegnere, bravo e avanti così. Applausi supplementari. Categoria Best Ross, Return on Sale, cioè ritorno sulle vendite. Il vincitore è Boscolo Bielo Ivano, SRL, che credo che sia collegato, benissimo, e consegna virtualmente il premio, sempre da remoto, Stefano Morganti, responsabile trade marketing di Caprio. Quindi uno scambio virtuale, meglio di così, siamo proprio in linea. Scambiatevelo, non so come. Allora, diciamo, motiviamo, motiviamo. Il miglior ritorno sulle vendite. Qual è stata la vostra strategia per raggiungere questa vetta? Buongiorno a tutti. La strategia è una scuola, il lavoro, i sacrifici. No, ma come diceva il professore prima, i ricavi sono importanti, ma i guadagni forse ancora di più. Perché il vostro, come dire, merito è quello di farle fruttare al meglio. Fin dall'inizio, la mia attività in Venezia, ha sempre cercato di puntare sul servizio, la qualità del lavoro che andiamo a fare. Forse non sentiamo più nulla. Non sentite? Non sentite? Forse deve alzare un po' la voce. Sto parlando, mi sente? Così, così. Così, così. Non so, deve dire la regia se si sente o meno. Deve metterle cuffie forse, mi dicono. Mi dicono. Non so, non so, non so. Che cosa posso dire? Se mettete le cuffie si sente meglio. Se mettete le cuffie si sente meglio. Va bene. Allora, come dire, passiamo a Capriol. Se mi dice, invece lei magari, se parla si sente, qual è il vostro rapporto con invece la Boscolo. Sì, purtroppo è stato disturbato. Intanto buongiorno a tutti. Bene. Qualcosa siamo riusciti a avere. And? Mi sentite? Sì. Ah, buongiorno a tutti. Sì, niente, fa molto piacere consegnare questo premio, anche se è all'istante, in maniera virtuale, perché, giustamente, come stavate dicendo, molte volte si guarda solo attaccurate, ma anche se l'hanno rimane attaccato, come si dice un po' in giro, imprenditoriale di base. Niente, da cui sono molto contento di consegnare questo premio e sono contento anche di vedere che c'è, in ogni caso nel nostro settore, un sentimento così di positività, che in questo momento è la cosa più importante, direi. Ottimo. Prego. Ho recuperato le cuffie, mi sentite? Continuiamo a sentire poco, purtroppo. Sono, come dire, il digital divide. Diciamo. Vuole aggiungere qualcos'altro, se no passiamo, andiamo oltre, perché in effetti è un po' complicato. Se è disturbata così. No, adesso si sente, adesso si sente. Si vuole, come dire, ritornare su quelli che sono le vostre strategie, i vostri modi di approccio al business? Non ci sono strategie particolari, se non, come dicevo prima, l'impegno, il sacrificio, il lavoro, le cose che, quando ero ragazzino, mi ha inculcato mio padre. Basta, ci va avanti. Il merito è anche di tutta la struttura delle persone che girano attorno all'azienda. Si cerca sempre di fare del meglio. Il team, il team, l'importanza del team. Il team, bravissimo. Ottimo, grazie mille. Io direi che... Grazie, grazie. Grazie per la premiazione. Ritorniamo in presenza, qua con i premi, per la categoria ROE, Return on Equity, cioè ritorno sul capitale investito, e il premiato è Testa Commerciale Spa. Chiamo qua a ritirare il premio Stefano Anesa, responsabile commerciale, Marika Furlan, responsabile amministrativa di testa commerciale, e consegnare il premio invece a Andrea Menozzi, presidente di XT Insulation. Prego, eccoci qua. Fotografie di ritmo, applausi virtuali, domanda classica su quali sono stati i passi, le mosse, per mantenere questa posizione, per giungere a un risultato che, come si diceva prima, è importante il fatturato, ma anche quanto poi è la redditività. Non so di chi di voi vuole rispondere. Una piccola premessa, Testa Commerciale nasce nel 97 come intermediario commerciante di materiali edili, e in questi 23 anni è diventata il primo distributore di cemento in Italia. Siamo una realtà piccola, questo è uno dei segreti, cioè una struttura di costi sostenibile, sotto controllo e flessibile, dinamica. E poi, vabbè, i segreti sono sempre quelli, cioè acquistare bene, vendere meglio, e quello che diceva il professore stamattina, cioè quello che ci ha insegnato la nostra proprietà, il signor Testa, massima attenzione al cliente, vicinanza, amicizia, spendere tempo per il cliente, stare con loro, in modo che il cliente, quando ha bisogno di un qualcosa, sa a chi rivolgersi. Questi sono i segreti principali, che poi non sono tanto segreti. Facciamo parlare anche lei. Visto che, come dire, si occupa anche della parte amministrativa, se c'è, come dire, una vostra peculiarità, una specialità vostra? Oltre sicuramente al lavoro che effettua la rete commerciale, negli ultimi due anni, i risultati appunto si sono visti, abbiamo effettuato anche degli investimenti, interrogandoci costantemente sul nostro equilibrio e sulla nostra presenza nella società, quindi verso i clienti. Gli investimenti effettuati sono stati sicuramente sul verso digitale e quindi sistemi che ci hanno permesso di monitorare le performance con la valutazione dei vari KPI aziendali che hanno permesso sicuramente di correggere o comunque capire qual è la strada migliore da seguire nel corso dell'anno e sia a livello globale come quindi complessivo che ad hoc verso ogni cliente. e questo sicuramente ci aiuta ancora oggi a cercare di porre costantemente degli investimenti grazie ovviamente agli utili conseguiti che decidiamo in piccola parte con la giusta attenzione di investire su questi nuovi fronti anche in questo settore. Ok, ma loro vendono i pannelli isolanti o no? Non vendono isolanti, potrebbe nascere una collaborazione. Ma come è il mercato adesso? Con il super bonus sarà... Per quello che riguarda il nostro mercato siamo in linea quasi allo scorso anno quindi siamo più che contenti. Il mercato non è semplice cerchiamo di sostenere il più possibile i prezzi e diciamo che ci muoviamo semplicemente un po' come come loro cercando di accontentare il cliente stando più vicino possibile al cliente e soprattutto la nostra rete commerciale è una famiglia quindi cerchiamo di coinvolgere tutti e cercare soluzioni ad ogni problema. Questo è principalmente il nostro segreto nelle difficoltà che ci possono essere in questo periodo. Va beh. Consegna del premio della targa è un piacere consegna. Fotografie diritto eccoci qua direi che abbiamo concluso la parte della premiazione di Grazie per la visione!